Trucco per il telefono che non conosci, fai una storia, ora cerca l'emoticon con il cuore blu e mettila esattamente così Fai la stessa cosa con il cuore giallo, ma mettilo in questo modo Ora vai nelle gif e cerca un albero, questo qui andrà bene, posizionalo qui sopra e torna nelle gif per cercare Squid Game Prendi la spaventosa bambina e mettila qui, aggiungi un paio di uomini mascherati e il gioco è fatto, pronta per essere pubblicata